Sono stati convalidati gli arresti domiciliari per il 25enne tunisino che nella sua abitazione Candelo deteneva sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I carabinieri in servizio alla sezione candelese nei giorni scorsi avevano notato durante il giro di pattuglia una grande e ricorrente affluenza sospetta di persone che entravano e uscivano dall'abitazione dell'uomo. Lo scorso sabato durante un giro di controllo i militari hanno ulteriormente notato un flusso particolarmente intenso di persone che entravano e uscivano dall'abitazione del tunisino. Un'operazione congiunta con la radio mobile di Biella ha portato a perquisire l'alloggio sospetto e all'interno i militari hanno rinvenuto diversi grammi di sostanze stupefacenti tra cui hashish e cocaina, oltre denaro contante, un bilancino di precisione ed il necessario per confezionare le dosi di stupefacente destinata alla vendita. Il tunisino è stato subito arrestato e condotto alla casa circondariale di Biella dove sono stati poi convalidati gli arresti domiciliari con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Questa risulta un'altra vittoria per le forze dell'ordine nella lotta contro la produzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti che da decenni colpiscono il nostro paese e che nell'ultimo periodo si stanno sviluppando sempre di più anche nelle nostre zone. Inoltre, a quanto risulta, l'uomo avrebbe residenza a Milano, il che potrebbe portare agli inquirenti ad ipotizzare un possibile legame con la rete di spaccio che si è spostata dal milanese alle zone boschive del biellese. Rete di spaccio che i carabinieri in servizio a Biella hanno danneggiato particolarmente, avendo nelle scorse settimane segnalato 16 persone per consumo e spaccio, ritirato 5 patenti e sequestrato circa 30 grammi di sostanze tra cocaina, eroina e hashish.